Sono Manfredi Scanagatta e ho partecipato al panel sulla Digital Public History portando un intervento sull'analisi e la fruizione delle fonti digitali. Come caso studio ho portato un'installazione multimediale che ho realizzato qualche anno fa, la Fonte in Piazza. Il focus del mio intervento era capire come poter utilizzare la fonte digitalizzata, in quel caso io ho lavorato sulle fonti audiovisive dell'istituto luce, quindi non una fonte digital borna, ma come una fonte primaria digitalizzata. Prima istanza da chiedersi che cosa succede quando digitalizzi una fonte primaria, avviene una rimediazione della fonte da materica, si trasforma in intangibile, diventa un codice che ti riesce a spedire attraverso un'immagine digitale, quindi ti vai a confrontare con un simulacro, questo che chiaramente cambia lo senso epistemologico della fonte e lo si deve osservare in maniere altre, ci sono varie opportunità tecnologiche che ci aiutano a osservare attraverso il sistema di definizione, la fonte digitalizzata può essere approfondita, cosa che l'occhio umano non arriva a vedere, con le macchine anche definizioni di presa si riescono ad andare a vedere dei particolari specifici della fonte. Le fonti digitalizzate vengono aumentate di contenuto attraverso l'inserimento dei metadati e anche i metadati portano dietro delle questioni sistemologiche non da poco, sono metadati descrittivi o possono essere anche metadati di natura semantica che in un orizzonte di web semantico portano attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale a poter fare delle comparazioni tra delle confederazioni di archivi che hanno la digitalizzazione delle fonti attraverso parole chiave di significato semantico e quindi non solo descrittiva con un anno o un nome, ma poco come può essere andare a fare una ricerca attraverso il termine violenza e si possono aprire dei canali di ricerca. Questo apre chiaramente una serie di possibilità e incertezze che vanno ancora sondate e l'esperimento che ho portato io, appunto, questo fonti in piazza è la relativa, la narrazione della storia del fascismo in Italia e l'ho portato effettivamente in una piazza di Roma, della griffa di est, a casa Albertone, attraverso l'utilizzo di schermi, diciamo, mediati da dei laptop che diffondevano la fonte primaria. Quali erano le fonti primarie in quel circostanza? Ho costruito 5 schermi, ogni schermo aveva un controllo specifico, si parlava del punto della personalità, riferito a Mussolini chiaramente, si parlava del colonialismo prevalentemente aflinafrica, si parlava della resistenza, si parlava della guerra, della liberazione e della vita quotidiana. Ognuno di questi schermi aveva un tema, questo tema era, diciamo, diffuso al pubblico, a fruitori, mettendo in piazza direttamente la fonte, quindi abbiamo andato a fare un lavoro sulle fonti audiovisive dell'istituto luce, selezionando i video che ci sembravano più interessanti, che maggiormente rispondevano un po' alle domande che ci stavamo ponendo, e poi andando a comporre dei montaggi. Questo comporta che è un lavoro fortemente interdisciplinare e che richiede tante competenze differenti. Dall'altra parte, per la componente audio per evitare un sistema di overlapping, quindi di sovrapposizione e gli audio dei singoli schermi ed evitare di costringere il futuro ad aver indossato delle cuffie, che secondo me crea sempre una distanza poi dal contesto in cui ti muovi, abbiamo costruito anche lì utilizzando sempre e solo fonti primarie digitalizzate, prese da archivi formali come quelle dell'ampio e come quelle dell'istituto luce, ma utilizzando anche ricerche web classiche, quindi utilizzando canali come YouTube, Google, abbiamo fatto un montaggio di audio che raccontasse tutto il periodo fascista, a partire dal discorso del bivacco di Mussolini, fino ad arrivare ai discorsi di Calamandrei degli anni 50. Nel mezzo ci sono i massaggi cruciali del fascismo, quindi con tutti i discorsi più importanti di Mussolini, ci sono le voci dei partigiani, ci sono le voci degli ebrei, ci sono le voci un cittadino comune che si trova a vivere la gorella. Questo è un impianto complesso e che ha posto anche la questione su come si può costruire una narrativizzazione della storia e qui si entra in tutto quel canale, a mio avviso, molto appassinante, che riguarda le teorie di filosofi e pensatori quali White, Rolish.